...delle installazioni che avete visto, qui sul palco, Davide Orlandi, Dornino. Ringrazio anche Alessandro Barogno che non c'è, che ha creato tutte quelle cose che avete visto. Le panchine di ferro, le cornicioni, i fiorelloni bianchi. Ringrazio tutti, insomma, tantissimo per averci permesso di creare questa cosa, ma soprattutto a tutti voi, presonuti qua, e averci permesso di vedere la questione. E tutti con voi, spero che vi sia piaciuto. Grazie.